Grazie a tutti. 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 Tutto domani non abbiamo da vedere, problemi non più impegnativi che questi sono impegnativi, ma c'è qualche cosa. Nelle famiglie si teme il male della strazione, dell'odio, della disgreazione. Nella società non ne parliamo, non ne parliamo, società civile, società politica, c'è soltanto quello. Quella assoluta profonda, forse non negale, ma esiste un altro periodo. Vi dico soltanto alcune cose, ma ci sono tanti altri, no? Tanti altri motivi perché noi possiamo sentire veramente le sue cose. I figli che non rispondono la stessa cosa dei miei figli. E' un altro periodo di cambiare la stessa cosa. Si c'è il cambio di aiuto, non c'è la nostra possibilità. Ma è un cambio di tutto, è tutto meglio il nostro mondo. Per te avviene questo. Cerveranno i tempi giuri. Cerveranno i tempi giuri. Cerveranno i misteri o 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 i misteri. Oggi noi non serviamo soltanto qualche idea, oggi da questo tempo. Io ho detto che in tutto questo, in tutto questo io sono i misteri o i misteri o i misteri o i misteri. Ma un partito nella società tutto il mio mondo. Tutto il mio mondo, tutto il mio mondo. Non c'è una positiva positiva per il futuro, ma c'è solo un campo negativo. La Chiesa ha avuto il soggetto, dei nostri pastori, del 13 anni, s'ammetendo il risalto di questa mancanza reale divina. Forse, dico forse, in noi c'è, c'è un ragione, c'è un ragione di Dio, ed è ancora una cosa possibile, ma intanto, forse nella paivaranza del mondo non c'è Dio. Non so soffrendo con il mio capo, proprio con un paio di misericà, parlando con due uomini, ed è ancora un ragione di Dio. E' 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 ancora un ragione di Dio. Dio. E' ancora un ragione di Dio. Dio. E' ancora un ragione di Dio. E' ancora un ragione di Dio. vuol sentirmi anche per una essenza vuol sentire quello che noi viviamo quello che noi viviamo questa è la vita questo senso di vivere e sono fatti di vivere siamo contenti che vi chiamo e sono fatti di vivere alla festa ascoltiamo la parola dei nostri nel suo senso con una certa certa con una certa certa e quindi continuiamo qualcosa che rischia di Dio e queste cose stiamo insegnando ai nostri vergogniamoci il Dio ci vuole come sé per vivere il momento il lavoro e non praticamente diciamo ma ma perché mi parla non mi parla perché mi sento il Dio e mi posso vedere mi sono vedere ci passano le mani e mi è perché preferisco fare la mia festa preferisco sapere il lavoro del mondo di e o salvatore è qui no? è qui poi prima delle le mie le mie le mie le mie le mie le mie perché questo è questo è questo abbiamo ascoltato il come il segno dice coraggio non te e il momento il suo ritorno in cui si vede e vive con il caro la sua terra oppressa l'allegno che ha detto per giù della babilonia che ha di ci si le che arrivavano non arrivavano più sentita e risconta per il pianto che pensavano sia in contatto in nostro palazzo scopertamento massimo di i di di se che ora non te vi 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 giunge la vendetta nella vendetta con un senso di perdito la vendetta di Dio è sempre la riconoscuzione del pez la riconoscenza di Dio si è il massimo di Dio anche con la sofferenza Dio riconoscenza e viene a salvare ecco la vera attenzione di insegnare la mia riconoscenza al cuore che sta nella sofferenza che non aiutate bene e al risale dice e viene a salvare e infatti risurrite che continuava a soffrire la mia riconoscenza ma che è rimasto se vedete aiutavete in questo vedete la salvezza giro di là adesso prendete le vostre cose vi ho anche Dio il denaro a ricostruire il dente e al ricostruire il dente e al ricostruire nel dente perché avete venuto ad adonare il nostro Dio a ricostruire la vostra e alberto in tempo solo In tutto questo si ingerisce il discorso della verità di Dio nel suo figlio di Gesù. La verità di Dio nel suo figlio 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 di Gesù. E' un'anima di Dio nel suo figlio 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 andiamo, vediamo la casa che ho sentato per vedere certo, pari di supernologi nella percezione che non mi ha quali sono il mio fortuna ma gli ascoltatori erano tutti destinati alla qualità perché questo da un annuncio di bene un annuncio di pazzo un annuncio di perdono quelle corse in cui l'uomo ma non è che la casa non facciamoci più soli non abbiamo nessuno di pazzo abbiamo bisogno per vedere ci manca Dio dal nostro se ci siamo di avere che sono una grande facciata perché Dio è così grande che se non si vuole con quattro parole quanto più subiamo Dio tanto più ci vediamo a poco che c'è il mondo c'è la vita dovevano essere iniziali è San Francesco San Francesco è Dio sopravvivano il Dio e il Dio roso ma non è che si prega il Dio roso aver sopravvi il Dio che roso è lui giovane giovane significa iniziale ad affrontare la presente Dio e Santacossini se vedete un po' degli scritti che ho aggiunto lì il Benedetto il Settissimo grazie di San Francesco lo dice lui tra i santi prevediti e il Santacossini del Reo no Santacossini dice Dio fa la prevedita e è un primo amico non mi ripassano anche gli uomini non mi sono suggeriti perché no è iniziale e l'amico per cui c'è il trasorto a questo l'asso l'esercizio dell'amico non mi ripassano è sovegliato l'esercizio Tanti occhi tornati con il Signore e vivi per la prossima e vivi a un mondo alla sofferta del Dio in quanto il Dio lo sovrere, lo sovrere a sin l'amore a Dio e per la solidarietà del Signore. Pensiamo, ecco, a queste mie repressioni. Il Dio è il Giardino, il Santo Rossino. Andavo cercando di Dio e non mi accorso, che lui era il Signore. Il Dio non mi accorso, che lui era il Signore. Il Dio non mi accorso, che lui era il Signore. Il Dio non mi accorso, che lui era il Signore. Il Dio non mi accorso, che lui era il Signore. E' il Signore. E' il Signore, non mi accorso, che lui era il Signore. E' il Signore. E' il Signore. Ora la riuscione con un momento di solle che lui è vero, però coraggio, non temi, Dio viene senza alcance. 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 Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottitoli 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 e revisione a cura di QTSS Nell'attento che rivolgo la mia attenzione è perché è il nostro Salvatore, Cristo Cristo. Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, il Signore, mi lascia la parte di voi, la mia amata, non guardare la vita di casa, ma la vede della tua Iglesia, e donare la vita e il pazzo con la tua volontà, tutti vedrete il mio senso di me, il Signore, la parte del Signore, che è sempre con voi, la mia amata, non guardatevi, segno di pace. A me lo dittino che di oggi e banci nel mondo Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.